Si chiamano Conte e Manin, vengono da Sbandes di Codroip e ho scoperto in una maniera buona e strana. Una domenica dopo di un mese di, due settimane senza ora, mi manda un messaggio Andrea Frappa, che io mi visi bene o non tra i Sextres, che tra l'altro torneranno in un gruppo che ha assunato anche con Rudy Protru di Tampar Città Un dei Fastons e mi aveva impartato anche in radio, insomma una roba che mi ha fatto un sgravin di plasemi di schiale che è un sgnotto e mi fico il suo gruppo al suono al Cautic, si chiamano Conte e Manin, facendo progressi e ma io prendo anche le psichederie e altre robe. Dite fatte botte sclopo sulla Taviodion e lì era questa canzone, l'invasione Longobarde che loro hanno fatte per Forlani, il resto del repertorio, insomma, le partaliamo, ma il futuro, insomma, promette bene, considerai che hanno dei sedi Sainz a Poppo in Su, ecco, quindi a Valdisi, che hanno anche l'età di Uste par Portanus des Bielis sorpresi. Sei chiesti, insomma, ha un pelle di lusore che si impie dentro anche e c'è tante storie che non sareste plasuti, insomma, vivi e che ti aiuti in Sainz, forse, te non sai per quale motivazione, vi invivuto un po' di manco. E dopo anche le situazioni, in strada è un gruppo biele, perché o eri quei genitori, le io insomma, tutte intche, o eri aggiassonati dai teams, oppure queste stimpi, insomma, si interessava di musica, le zone di Codroipe, e dopo Devant, allora ero un troppo incredibile di giovanissimi, anche con Chiameses quasi Paisley e Robesda Gerns, ma aveva una scena di altri teams e dagli osservatori anzianze che stavano in avviare, però le sensazioni biele, ecco, alle poche c'è discute. Insomma, con te manini, qua orte, se avess'occasione di avviare un attore, queste le possibilità che us spiete. E come ogni internazio, insomma, con le nuove discografiche, l'uere antichist, con Billy Huff Gibbons, forse te si visais da Isisitop, insomma, Billy